recensione ruote zefiro e molti di voi me lo hanno chiesto le ruote della bici da corsa ecco appena finito l'allenamento questo è il mozzo con le flange in alluminio interno in carbonio questa è la ruota con cerchio in carbonio con profilo da 38 sia avanti che dietro eccola questa è la posteriore questa è l'anteriore uguale sempre mozzo in carbonio con flange d'alluminio eccole le ruote zefiro t38 per tubolare questo il tubolare che è molto è un tuffo questo il motello questa è la sezione siete poco 28 per 22